... a te me kufi da ne hladele dofonamente luca Calati malo svetla e il Roi e il gruppo idforata e l'aiuto ed è un inter?? mutimi Noi, noi, noo, noio, noio... Beh, non ti fanno te fare, noio, noio... Prendiamo. Uèèèèvoooh, per favore! Dai, dai! oh 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 Sì, ne senti, snimando. Sì, ne senti! Sì, ne senti, ne senti. Sì, ne senti!